Nella vita hai imparato a restare al tuo posto, essere all'altezza delle aspettative, contare sempre fino a dieci, non deludere mai le speranze dei grandi. Ora che conosci tutte le regole, dimenticale. Nuova classe B. Osare diventa la regola. Provala sabato 19 e domenica 20 novembre e scoprirai che tutto è cambiato.